Giovanni Alberto Filipponi Avanti, dici la verità e mettiamo una bella parola a fine a questa storia Ma di cosa sta parlando? Non fai lo scemo, abbiamo trovato il tuo DNA sul coltello che ha assassinato Francesca Confessa cazzo! Io non confesso Dai per favore No Ti do 5 euro se confesso No Il gioco Pokémon Smeraldo per Game Boy Advance in inglese No Una villa nel basso nazio La mia risposta è no Accendiamo? Ok È molto bella Dai se confessi ti do due biglietti per il concerto ultimo a San Siro quest'estate Ma è stato annullato Sei però in affare cazzo Ma io riuscirò a farti parlare vedrai Basta io non ho fatto niente Oh stai caldo stiti immediatamente ok? C'è una gran puzza qua comunque Eh? Non muovi ti vado a controllare che non ci sia niente di sbagliato Mai non è possibile di vivere la via Avevi ragione era il gas Non ti muovere Pronto? No come manca il decimo? Tu te lo fai anche al 100 alle 7? Si! Ok ce l'ho io Mi saluto ci sentiamo dopo Ciao ma Ah bene 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 Visto che non vuoi parlare ti porteremo in tribunale Ah si? E con quale capo d'accusa? Sono io il capo qua Eh? Io ho una pistola eh Vedi? Riporta rispetto E ora dimmi dove ti trovavi il 7 marzo 2008 alle 9 e 40 di mattina Boh non lo so Io alle 9 e tre quarti Non mi ricordo da 10 anni fa Ma perché ne fai così? Scusi guarda il dettaglio non c'è nessuno Duralo su mamma Giuro Su nonna Giuro Su tua cugina di secondo grado Te lo giuro Ma perché non hai detto prima che eri innocente? Dai sei libero su vai No grazie Oddio Attento ti è caduto la pistola Ah si grazie Bisogna stare attenti queste cose sono fragili Dai ci vediamo Oh giovanotto Fase quel gelato Fase quel gelato